Non si placa la paura da contagio in Veneto, un nuovo focolaio con 43 persone infette esploso nella sede della Croce Rossa di Jesolo in via Levantina. Si tratta di 42 ospiti di nazionalità africana e un operatore della struttura. I positivi sono stati trasferiti in giornata grazie all'ausilio di Pullman arrivati da Milano in due strutture protette extracomunali con sede in Veneto come disposto dal prefetto. Queste persone noi stiamo adesso in accordo con il comune di Jesolo, la Croce Rossa stessa, la prefettura, le forze dell'ordine, la protezione civile, le stiamo portando via da Jesolo e andranno in altre località dove verranno seguite, guarite da un punto di vista sanitario, strutture protette. Il focolaio è stato scoperto per un caso fortuito, un migrante, ospite della struttura che doveva essere operato in ortopedia a San Dona di Piave, come da protocollo è stato sottoposto a tampone che ha evidenziato il contagio. A quel punto sono stati eseguiti altri 142 tamponi nella serata di ieri su tutte le persone che gravitano a vario titolo nella sede della Croce Rossa. Tamponi che hanno rilevato la positività delle 43, tutte asintomatiche, provenienti dall'Africa subsahariana che per integrarsi nel territorio svolgevano attività lavorativa stagionale. Pertanto sono stati allertati anche i rispettivi datori di lavoro per evitare l'esplosione del contagio e per monitorare la situazione in maniera preventiva. Ora la tensione cade sugli 85 ospiti risultati negativi che resteranno in isolamento nella sede jesolana in attesa del secondo e del terzo tampone trascorsi i 7 e i 14 giorni. Ad occuparsi della vigilanza e del rispetto dei protocolli sanitari e dell'isolamento sarà il personale della Croce Rossa con l'incremento di 11 unità inviate dalla sede nazionale. Il sindaco Zoggia ha subito firmato un'ordinanza e ha avuto un confronto con il questore per assicurare che le persone sottoposte a isolamento non escano dalla struttura e ci sia un presidio costante da parte degli uomini delle forze dell'ordine. Ha fatto subito un'ordinanza urgente, contegibile urgenza, per evitare che le persone che sono negative, perché le positive vengono portate via, che le negative vadano in giro per il territorio fin tanto che non sono passati i 14 giorni di quarantena. Grazie a tutti.